Allora Jack Sintini stai girando in lungo e largo la Calabria per la presentazione del tuo libro, stasera qui a Vibo nella sede del Volley Club Giacinto Callipo, forza e coraggio. Sicuramente è molto importantissimo, è una cosa che mi sta molto a cuore poter raccontare la mia storia, dare speranza alle persone perché penso che la mia storia a lieto fine possa aiutare che affronti un momento difficile come è quello della malattia. Sto girando tanti posti qui in Calabria e anche in Italia, mi stanno invitando veramente dappertutto e è bellissimo aver ricevuto questo invito da parte dei nostri tifosi. Io sto imparando a conoscere, loro stanno imparando a conoscere me, quindi per me oggi condividere con loro la mia esperienza di vita è importante perché non soltanto potrò continuare a portare questo messaggio ma potrò anche avvicinarmi di più a loro e loro a me e sono molto contento di poterlo fare. Tra l'altro poi stasera inizia una tre giorni intensissima per te, la presentazione è questa sera, domani è la partita contro Potenza Picena, a lunedì partirai alla volta di Latina per ricevere il premio Laganà contro le leucemie e presenterai anche nelle città pontine il libro, quindi speriamo di vincere domani e poi a Latina di festeggiare anche la vittoria. Sicuramente obiettivi tutti e due molto importanti, sia per un aspetto della mia vita che per l'altro, sono molto concentrato per la partita di domani, penso che sia una grande occasione per noi per portare a casa una vittoria importante tra le mura amiche e dimostrare anche che stiamo crescendo come squadra. Io ci tengo tantissimo che domani sia una partita molto convincente da parte nostra, penso che abbiamo le qualità per farlo, ci siamo allenati benissimo in settimana, credo che siamo pronti e determinati a far capire a Potenza Picena che noi vogliamo dire la nostra fine in fondo in questo campionato e vogliamo cominciare da domani.